Musica Benvenuti al TG10, l'apertura oggi dal telegiornale la dedichiamo alla vicenda Porto Rifugio di Gela. Ieri sera consiglio comunale dedicato interamente al mancato inizio dei lavori di dragaggio. La Giunta ribadisce che sta facendo il possibile e che adesso tutto dipende dalla Regione. I comitati lanciano un appello al Presidente Crocetta al fine di risolvere l'atavico problema. L'amministrazione comunale di Gela ha fatto tutto quanto era nelle proprie possibilità e si sta già adoperando per firmare il protocollo d'intesa. Eventuali ritardi saranno da debitare solo ed esclusivamente al Presidente della Regione, Rosa di Crocetta. E' quanto rimarcato ieri sera durante i lavori del Consiglio comunale che ha trattato la vicenda Porto Rifugio. E' quanto parliamo di Porto Rifugio ci riferiamo al mancato inizio dei lavori di dragaggio. Proprio su questo tema è stata presentata un'interrogazione che porta alla firma del capogruppo consigliare del PD Enzo Cirignotta, condivisa da Virginia Farruggia, Movimento 5 Stelle e Salvatore Scerra, Forza Italia. Presenta ieri sera una folta delegazione di operatori portuali legati al Comitato Porto del Golfo di Gela. L'appello è rivolto direttamente al Governatore della Sicilia. Noi, vista la situazione di ieri sera al Consiglio comunale, che è stato detto a chiare lettere che adesso dipende dalla Regione, l'appello è fatto al signor Crocetta, rappresentante della Regione. Diciamo e chiediamo come popolo gelese di darsi una mossa per poter finalmente vedere un portofruibile a Gela, nella sua città, dove lui è nato. E quindi mi sembra anche giusto che si dia una mossa e levi questa vergogna in giro, perché è una vergogna. Se non dovessero arrivare segnali incoraggianti dalla Regione, il Comitato è pronto a scendere nuovamente in campo. I lavori di dragaggio al porto non sono più differibili. Siamo pronti, hanno detto i componenti del Comitato, ad intraprendere qualsiasi forma di protesta pacifica, pur di raggiungere l'obiettivo. In caso di ancora ritardi per questo tipo di operazione per il porto, le varie associazioni abbiamo pensato e abbiamo deciso di unirci e formare un gruppo di protesta in oltranza per quanto riguarda la situazione porto. E questo è giusto che le varie politiche gelesi e regionali lo sappiano. Siamo stanchi, siamo arrivati, non ne possiamo più, ci serve il porto. Quindi è meglio che si dia una mossa, sia a Regione, amministrazione comunale. Non ci importa a noi di chi è la colpa, se è della Regione, se è dell'amministrazione comunale, perché non ci capisce più nulla. Prima dalla Regione ci passano al Comune, dal Comune alla Regione. E' meglio che si mettono comunque d'accordo fra di loro e che il Presidente della Regione Crocetta si dia veramente da fare per questa situazione. E sull'argomento è intervenuto anche il capogruppo consigliare del Partito Democratico, Enzo Cirignotta, che ha presentato in merito una specifica interrogazione. Per la prima volta l'amministrazione comunale ha preso una posizione chiara e netta, l'ha dichiarato in aula, alla presenza di molti operatori, che sono pronti a firmare l'accordo per i lavori del dragaggio del portorifugio di Gela. Quindi un passo in avanti importante. A questo punto auspichiamo che il Presidente della Regione convochi con urgenza una riunione per la firma del protocollo d'intesa in maniera tale che la protezione civile possa passare alla fase esecutiva della progettazione. Non riteniamo che i lavori di dragaggio non sono più rinviabili. Ma non c'era stata una riunione a Palermo, un tavolo tecnico, in cui si era proprio discusso del problema porto e si era pure detto che si sarebbero intervenuti subito? Sì, ci eravamo lasciati che nel giro di qualche settimana si doveva firmare il protocollo d'intesa per impegnare i famosi 5,8 milioni di euro. Sono passati due mesi e ancora non è successo niente. Anche per questo è stata presentata un'interrogazione all'amministrazione comunale. Noi ci attendiamo ai sviluppi a breve. E voi chiederete all'amministrazione comunale, nel caso in cui si protestasse, di essere in prima fila? Ma i comitati hanno annunciato delle proteste, delle iniziative pacifiche per arrivare all'obiettivo di avere un porto rifugio funzionale alle esigenze della città. E quindi è chiaro che la politica e sicuramente anche il vice sindaco e il sindaco auspicchiamo che saranno in prima fila a sostegno dell'avvertenza del porto rifugio di Gera nel caso in cui si registrassero dei ritardi nella firma del protocollo d'intesa. Non vorremmo però Gignotta che fossero soltanto fiumi di parole così come è accaduto fino ad oggi. Ma io non posso pensare che dopo una riunione convocata alla presenza della protezione civile dell'Eni, dell'amministrazione, dei consiglieri, operatori portuali, presenti alla regione non si desse seguito a quella riunione. Sarebbe veramente uno schiaffo morale alla città. Il coordinamento del tavolo tematico Aria Verdi, Spazi Pubblici e Mobilità Urbana attivo da alcuni mesi all'interno del progetto denominato Cantiere Gela incontrerà sabato 10 settembre alle 16 presso la sala Don Pino Pugliesi in via Ossidiana i cittadini che hanno manifestato la volontà di adottare le Aria Verdi di via Morselli. Sono invitati a partecipare alla riunione tutti i residenti che fossero interessati ad aderire all'iniziativa o che volessero conoscere nel dettaglio il progetto di adozione. Il Partito Democratico di Gela aderisce alla raccolta fondi per le popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto del 24 agosto scorso. Chi volesse donare beni di prima necessità potrà farlo recandosi nella sede del circolo del PD in Piazza Martiri della Libertà oggi dalle 17 alle 20. Ricordiamo che è possibile donare acqua, cibi scatola, pannolini, latte in polvere, succhi di frutta omogenizzati, prodotti per l'igiene intima, medicinali da banco, spazzolini, dentifricio, torce, pile, batterie elettriche tutto nuovo e imballato. Per informazioni c'è anche un numero telefonico 345 8488 681. Gela si stringe attorno a Maria Santissima d'Alemanna. Domani 8 settembre si festeggia la patrona della città. Un appuntamento molto sentito dai gelesi, una vera e propria identificazione con le radici della propria fede. Gela festeggia Maria Santissima d'Alemanna a ricordo del ritrovamento della Sacra Econa che è stato come una nascita di Maria in mezzo ai gelesi. Domani alle 7 alle 12.30 in Chiesa Madre sono previste le messe. Alle 10.30 il pontificale preseduto dal vescovo della diocesi di Piazza Merina, Monsignor Rosario Gisana. Alle 18 presentazione dei bambini alla Vergine Maria e alle 18.30 la processione della Sacra Econa per le vie della città. I festeggiamenti si concluderanno a mezzanotte con il grande spettacolo pirotecnico a mare. Credo che il gelese debba fare riflessione seria per sapere ciò che vuole. perché il dramma di Gela è che Gela non sa ciò che vuole. Perché le parole generiche e le promesse voglio questo, voglio quell'altro tu devi chiedere ciò che veramente necessita la tua vita. e nella vita di ogni gelese quello che almeno notiamo noi o almeno noto io come parroco di questa responsabilità, di questa parrocchia che coltiva e custodisce le sacre tradizioni e la storia religiosa di Gela è che manca di relazione vera. Ma quando vengono a parlare con lei i cittadini ingelesi cosa le dicono della città, dei problemi? Dicono soprattutto dei problemi che vanno al di là di quelle che possono essere percorribili. Ora quando noi chiediamo o chiudiamo o chiediamo delle cose fattibili o delle cose che impegnano noi non possiamo ancora avere una mentalità, se vuoi pure religiosa, che tutto ti deve piovere dall'alto. Omo fa per fortunae sue, per cui l'uomo deve avere la tua partecipazione, la propria partecipazione a quello che desidera. Perché colui che ha creato te senza di te non salva te senza di te. Un lavoro di costruzione vero e proprio dovrebbe farlo la politica, dovrebbe aiutare, dovrebbe secondare le esigenze, in questo caso di Gelesi. Secondo lei la politica fa quello che dovrebbe fare? Sai, nessuno di noi fa il proprio dovere. Neppure la Chiesa molte volte. E il Papa lo dice in modo molto esplicito. E allora prima di poter guardare le inadembienze degli altri, ognuno curi le proprie inadembienze. E domani in occasione della festa della patrona di Gela, gli uffici igiene pubblica rimarranno chiusi. Eventuali emergenze saranno garantite dall'unità operativa igiene pubblica di Niscemi. Il numero di telefono è 0933 951084, lo ricordiamo, 0933 951084. E adesso apriamo la pagina della cronaca giudiziaria con l'arresto di quattro soggetti sorpresi dai carabinieri mentre coltivavano piante per ricavare sostanza stupefacente. Si trovano recluse nel carcere di Contrada Balate a Gela a disposizione dell'autorità giudiziaria le quattro persone arrestate di risera dai carabinieri della stazione di Niscemi con l'accusa di coltivazione di stupefacenti. Le porte della casa circondareale si sono aperte per Giuseppe Di Garbo, 75 anni, pregiudicato di Butera e per i riesini Giovanni Giuseppero Nobile, 26 anni, operaio, Francesco Correnti, 29 anni, con precedenti specifici e Salvatore Migliore, anche lui, di 29 anni. I militari dell'arma hanno sorpreso i quattro in Contrada Montagna nelle campagne di Butera mentre curavano una piantagione di canapa indiana composta da circa 150 piante e rigavano e portavano le piante che avevano raggiunto un'altezza di circa un metro e mezzo. Dopo un'intensa e puntuale fase di osservazione, i carabinieri sono entrati in azione proprio nel momento in cui i quattro soggetti stavano portando via le piante appena raccolte. Bloccati, sono stati emanettati e tradotti in carcere. Sequestrati tutti gli attrezzi utilizzati per la gestione della coltivazione. Lo stupefacente sequestrato, se messo sul marchiato illecito, avrebbe fruttato oltre 150.000 euro. L'operazione di ieri sera fa seguito ad un altro blitz eseguito sempre dai carabinieri il 27 agosto scorso. I militari dell'arma del reparto territoriale di Gela e delle stazioni di Riesi e Butera individuarono in quell'occasione un'estesa piantagione di mariana composta da 3.000 piante con un'altezza media di 180 centimetri, celate dalla vegetazione originaria in un fondo agricolo di contrada iudeca tra Butera e Riesi. Il proprietario dell'appezzamento di terreno, un 41enne Riesino, pluripregiudicato, fu denunciato alla procura vigera per coltivazione di sostanza superficiente. Importante ai fini dell'individuazione dell'estesa piantagione fu il contributo di un elicottero del nono nucleo elicotteri di Palermo. Il ricavato della vendita delle piante, se messe sul mercato nero, avrebbe fruttato un valore di circa 2 milioni di euro. Fuoco, la scorsa notte in Vienardini a Gela, distrutta una jeep appartenente ad un imprenditore di 61 anni. Le fiamme hanno anche attaccato una palma. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Fai la cosa giusta, differenzi ai rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, mercoledì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione gli imballaggi in plastica e metallo, multimateriale, nell'apposito sacco trasparente. Cosa conferire? Plastica, piatti e bicchieri monouso in plastica, bottiglie di acqua e bibite, flaconi, taniche, dispenser e tubetti vuoti per detergenti, detersivi, shampoo e dentifricio. Prodotti per l'igiene della persona e della casa. Baschette, contenitori, buste e sacchetti per alimenti. Imballaggi in polistirolo, reggette e stringipacchi, blister, reti e cassette per frutta e verdura. Contenitori con sigle PET, PWC, PPP, PS. Cosa conferire metalli? Lattine per bevande, scatole e lattine in banda stagnata, contenitori in metallo, pelati, tonno, mais, cibo per animali, contenitori di prodotti per l'igiene personale, tappi, coperchi e stampi per dolci in metallo, carta in alluminio di uso domestico pulita, contenitori in alluminio per alimenti puliti, bombolette spray vuote, non pericolose, coperchi in alluminio degli yogurt, lattine con il simbolo AL. Come conferire il multimateriale? Gli imballaggi in plastica, assieme agli imballaggi in metallo, alluminio, banda stagnata e metalli, vanno conferiti puliti, utilizzando l'apposito sacco trasparente. Per un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Rieccoci, seconda parte del telegiornale, inizierà lunedì 12 settembre, l'anno scolastico all'Istituto Comprensivo San Francesco di Gela, diretto da Giovanna Palazzolo, sia nel plesso San Francesco di Piazza Salandra che in quello della Giudici, in Vienicemi, il calendario è il seguente. Scuola dell'infanzia, bambini in entrata, dalle 8.30 alle 10.30, dalle 10.30 alle 12.30, tutti i bambini, scuola primaria e classi prima media dalle 8.30 alle 10.30 e classi seconde e terze dalle 10.30 alle 12.30. E adesso occupiamoci del Festival del Golfo che questa sera sarà di scena con la sua decima edizione, prevista anche la diretta televisiva sui nostri teleschermi. E' tutto pronto, questa sera dalle 22 nei pressi della Chiesa Madre avremo inizio la decima edizione del Festival del Golfo, la cremessa canora molto attesa e promossa dall'Associazione Sival Sul Musica di Catano Lorefige e Daniele Venosta, un appuntamento tradizionale che si inserisce nei vestigiamenti della patrona Maria Santissima D'Alemanna. L'intera manifestazione andrà in diretta sulla nostra emittente. Sul palco tanti cantanti. Quest'anno la novità interessa i presentatori. Ci saranno Emanuele Rubio e Consuero Lishandra. I cantanti si esibiranno accompagnati da musicisti che suoneranno dal vivo. Il Corriere di Gera, il settimanale ideato e diretto dall'Accocerro, come per tutte le passate edizioni, sarà media partner e come ogni anno assegnerà un premio speciale della stampa. Le novità importanti sono la più grande orchestra che abbiamo avuto negli anni. Abbiamo 25 elementi di orchestra, sezione archi, sezione fiati, molto ricche. Infatti la musica deve essere la protagonista di questo festival. Abbiamo cambiato con i presentatori, abbiamo una coppia nuova, quindi stiamo voltando completamente pagina. Diciamo che anche i cantanti c'è un livello altissimo quest'anno, forse più alto da quando è nato il festival. E chi sono i due nuovi presentatori? I due nuovi presentatori sono due facce nuove per Gera da questo punto di vista. Emanuele Rubio e Consuelo Lishandra. Ricordiamo lo start alle ore 22. Lo start alle ore 22 precise, però finiremo puntualmente alle 12 e mezza, quindi non ci sarà pericolo di fare notte fonda. Non avremo tempi morti, per cui la gente si divertirà sicuramente. Diciamo che se non piove sarà un grandissimo festival. Anche quest'anno c'è la diretta televisiva su Canale 10. C'è la diretta su Canale 10 televisiva e anche in streaming andremo in diretta sempre su TG10. E c'è anche il premio della critica consegnato con ogni anno dal Corriere di Gela. Sì, c'è il premio della stampa che sarà consegnato da Rocco Cerro, direttore del Corriere di Gela, ma la giuria sarà composta ovviamente da giornalisti locali molto qualificati. Hai studiato tanto in questi giorni per allestire il tutto per organizzare la decima edizione? No, diciamo che quest'anno ho lavorato meno degli altri anni perché ho lasciato più spazio alla musica e ai veri protagonisti della canzone. Ricordiamo dunque non prendete impegni mercoledì 7 alle ore 22. Mercoledì 7 è la vigilia della festa della Madonna accanto alla Chiesa Madre. Questo accanto alla Chiesa Madre ha creato parecchie polemiche su Facebook come il modo migliore secondo me per fare capire alla gente che noi saremo a fianco della Chiesa Madre in quella piazza di cui nessuno conosce il nome. Continua nel quartiere residenziale di Macchitella Gela la segna dell'Edes Tramp promossa dal direttore artistico Francesco Castellana con Anna Salsetta alla produzione esecutiva e con Francesco Trenito alla produzione tecnica. Oggi alle 22 si esibirà Glenda Scolaro accompagnata da Marco Grillo. La Confcommercio Gela sta avviando dei corsi sulla sicurezza i sensi del testo unico sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta del responsabile del servizio prevenzione e protezione di 16 ore rischio basso addetto alla prevenzione lotta antincendio rischio medio di 8 ore ed ancora primo soccorso di 12 ore rischio basso e medio e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di 32 ore. A presto saranno avviati anche i corsi sab abilitante per la somministrazione di alimenti e bevande di 100 ore e HACCP per operatori della settore alimentare di 12 ore. Gli interessati possono effettuare l'iscrizione presso la segreteria in via Cicerone 104 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.00 per informazioni c'è anche un numero telefonico 0 933 939718 Gela, Piazza Merina, Niscemi, Butera, Vittoria, Cate e Comis sono sette comuni che hanno presentato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali la proposta progettuale POLEIS di sostegno alla progettazione integrata di scala territoriale per la valorizzazione culturale. L'associazione di comuni di cui Gela è capofila ha lo scopo di trasformare il giacimento delle risorse materiali e immateriali con l'obiettivo di rivitalizzare, rigenerare e riusare i spazi vuoti dormienti, abbandonati, indefiniti o in transizione a favore dell'arte, della cultura e della creatività che hanno assunto negli ultimi anni una dimensione nuova dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il principio generale della strategia territoriale proposta è quella di realizzare un policentrismo per l'allocazione, l'integrazione e la valorizzazione di funzioni e servizi nei territori di riferimento. Nell'integrazione del sistema dei grandi attrattori culturali spiccano Piazza Almerina con la Villa Romana del Casale e Gela con il parco archeologico e museale. Proprio quest'anno al di là dei valori culturali dei beni culturali dell'alto spessore che Piazza Almerina presenta, parliamo prima di tutto della Villa Romana del Casale ma di tutti i monumenti artistici, storici che ci sono e che costellano tutto il territorio e il perimetro urbano di Piazza Almerina io ho chiesto a loro questa forzatura proprio alla luce della candidatura della città di Piazza Almerina a capitale della cultura italiana ho chiesto una sorta di fatemi dire pole position una sorta di priorità proprio per enfatizzare ancora di più e sottolineare l'importanza che la candidatura e un'eventuale vittoria della capitale della cultura vedi Matera potrebbe creare per tutto il territorio parlo per il territorio di Niscemi parlo per il territorio di Gela di Comiso e di tutti i comuni che hanno aderito a questo progetto i sette comuni che in modo del tutto paritetico hanno deciso di avviare un percorso di rilancio culturale del territorio lo voglio sottolineare perché il fatto che Gela sia comune capofila è solo un punto di riferimento ma in un buon gruppo si deve considerare le necessità di tutti e le aspirazioni di tutti ed è per questo che siamo qui oggi a Pezzermerina a firmare questo protocollo che avvia un cammino che attingendo dei fondi comunitari può dare delle risposte turistiche e culturali a tutti i nostri territori ci sono comuni tipo Comiso con l'aeroporto che può aiutarci nella direzione dell'afflusso turistico c'è Piazza Armarina con il sito UNESCO della Villa Reale del Casale c'è Vittoria che è Comiso insieme con il suo centro storico che può contribuire a trattare turisti poi c'è il Gela con il parco archeologico insieme a Miscemi e Butera il parco archeologico che ricomprende con le mura con le nostre spiagge con il museo con tutto ciò che noi abbiamo e con mettere insieme a cate con il castello quindi è un insieme di comuni che hanno la possibilità di valorizzare ancora di più il proprio territorio Masterclass di danza classica moderna e contemporanea al teatro Eschilo con Alessandra Celentano insegnante di danza classica e Cristiano Lopresti danzatore della scuola di Amici appuntamento venerdì 9 sabato 10 settembre per informazioni recarsi al botteghino del teatro dalle 18.30 alle 20.30 oppure contattare i seguenti numeri telefonici 345 58 80 580 o 33156 23129 giornata della solidarietà domenica 11 settembre alle 10.30 in piazza Umberto I a Gera l'iniziativa aggiunta all'undicesima edizione è promossa dal Veteran Motor Club in collaborazione con la sottosezione dell'Unitalsi abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni